Poi stai insieme a te perché non mi usi più seguito. dove sta il mio prego? gordo ola gordo dove sta il mio prego? iiii oveio ola gordo 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 ola mi prego Sì, siamo arrivati Sì, siamo arrivati Sì, siamo arrivati Sì, siamo arrivati Tiene un chocollo Lì sono più grande Il chocollo è più grande È più grande Però qualcuno è qui E qui le vanno Ma la cosa è qui Ma la cosa è qui Allà non è qui Ma il marco Ma il marco è lento Ma che cosa sono No, non le doi le cose Ma il marco è lento Vanno, vanno e io qui ti ho fatto un vampiro le dite pa? però le parlano con la... Està in a les aulas, no? si, in aulas qui tiene una una chapennica de... che si tiene una chave no vedi que le di alas blancas qui se viene? qui ma? Ahi, però vengono a pelar.